Rabino promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. La concessionaria Renault di Pinerolo e Avigliana contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni 4 zampe in tv. La trasmissione che da 10 anni presenta i cani in adozione dai canili di tutta Italia. Rabino concessionario Renault è un'azienda che ama i nostri amici a 4 zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Rabino. Ben tornati tutti voi ad una nuova trasmissione di video adozioni. La copertina ha scritto sotto adottate un nonno, anzi adottate una nonna. Ci troviamo al canile rifugio di Bibiana, dunque Graziella ciao bentornata. Ciao grazie a voi. Marinella ciao bentornata. Ciao grazie. A proposito di nonne abbiamo? Hai poco da far battute. A proposito di nonne io ho solo i capelli bianchi e basta. Mentre invece Nenè è bianca e ha qualche problema al pelo davanti perché è stata morsicata. E' anziana innanzitutto. Marinella mi dicevi è stata restituita. Come si fa? Tralasciamo, andiamo oltre. Adesso dobbiamo, come mi ha insegnato la professoressa Graziella Vondetto, dobbiamo ridare una dignità a Nenè. Loro nel rifugio, Marinella, i volontari responsabili ci lavorano, dobbiamo dare che cosa Nenè? Sì, la dignità come hai detto tu è una casa soprattutto. Lei è bravissima con le persone, con gli altri, con i maschi non ha problemi, con le femmine magari bisogna stare un attimo attenti. Però lei ha sempre avuto una casa, poi ultimamente non è più stata tenuta benissimo, da sola in un box, infatti è ancora molto magra e molto stressata. Quindi è stata esclusa dalla famiglia che la teneva? Questa famiglia pare che abbia cambiato casa e nella nuova casa ci stava solo l'altro cane, il compagno di Nenè e lei non ci stava più, anche perché forse un cane anziano è un pochino più impegnativo. Certo, un cane anziano è molto impegnativo, è inutile nasconderlo assolutamente, può avere problemi di tutti i tipi, ma l'avrete ricambiati in misura? Allora, ma vado avanti io, perché chi adotta un cane anziano da noi avrà le crocchette ad hoc, cioè per il cane anziano, per un anno, dalla Nutrix Plus e il canile regala invece le cure veterinarie occorrende. E questa è importante, è una delle paure, se poi si ammala come farò, se deve operarlo come farò, il canile vi affianca vi aiuterà. Esattamente, è chiaro che saranno cure veterinarie rispetto a malattie tipiche del cane anziano, perché se il cane si rompe una gamba io non posso intervenire, perché non è una patologia da cane anziano. Comunque, io comunque aiuterò sempre se posso. Nenè è molto buona, è ancora molto triste, se la vedete, anche se adesso va a passeggio, noi... Andare a passeggio. Dunque... Dillo, diglielo. Adoro andare a passeggio, infatti quando la fai uscire è già davanti al cancello che aspetta. Bene, bene, questa è una buona caratteristica, perché comunque chi è anziano e adotta un cane anziano si farà delle bellissime passeggiate, vitali e importanti perché il medico le suggerisce, consiglia. Comunque ricordo che chi adotta un cane anziano in un rifugio della Lega del Cane avrà le crocchette ad hoc per un anno della Nutrix Plus, mentre invece qui noi regaliamo anche, al di là delle visite veterinarie sempre gratuite e poi le cure per patologie del cane anziano. Metteteci il cuore, questa è la mia richiesta, lei è strepitosa, ci sono anche altri cani sicuramente che andremo adesso a presentarvi perché altrimenti dedicheremo tutta la trasmissione a Nenè, invece abbiamo altri. No, lo dedichiamo a quattro cani anziani che possono andare in una casa. Bene, andiamoli a scoprire. Da Reggio Calabria a Bibiana il salto è stato sicuramente di temperatura notevole perché sta nevicando, piccoli fiocchetti. Lei, Desiree, da qualche mese ospite del rifugio? Sì, lei arrivava da Reggio Calabria, era l'ultimo cane che ancora c'era a Reggio Calabria di quelli della Lega del Cane perché c'era stato un sequestro tanti anni fa e lei era finita in uno di questi canili molto grandi e non era mai più uscita di lì. Per cui l'inizio è stato un po' burrascoso, nel senso che lei non osava far niente, non conosceva niente e adesso però si è perfettamente integrata. È una brava canina, anche lei. Di solito la lasciamo libera la sera con tutti gli altri vecchietti in cortile che muovono perché il freddo si fa sentire se loro stanno fermi, chiusi nei box. Ha 11 anni, 10-11 anni. Ah, del 2013 mi diceva Marinella. Quindi sono tutte età presunte perché questi cani insomma non si sa bene neanche da dove arrivino. Comunque adesso è qui da noi, sta bene, anche lei può andare tranquillamente in una casa. Oggi vi presento questi cani che entrano nel progetto Adotta un nonno. Sono tutti cani già selezionati da noi. Cioè non sono dei vecchi che poi arrivano in una casa e hanno dei problemi. No, sono già stati selezionati. Questo è un cane che può tranquillamente andare in una casa. Il suo nome ricorda tempi andati. Tempi passati, sì, molto passati. Infatti lui si chiama Pu. Noi abbiamo pensato che questo nome fosse quello del gruppo. Ipu. Arriva anche lui da una casa. Anche lui ha perso tutta la sua famiglia. Anche lui ha tribolato un pochetto per arrivare in canile. Sta però benissimo adesso qui con noi. Pensate che ha dovuto subire un grosso intervento. Noi eravamo molto preoccupati perché, vedete, non è giovane. Anche lui entra nel progetto Adotta un nonno. Però è delizioso. Buono con le persone. Va bene a passeggio. E' sereno questo cane. E' gioioso. E quindi io spero che qualcuno, visto che è piccolo, voglia dargli una casa. Una casa come merita. In fondo la resistenza canina, la resilienza canina, oltre che la resistenza canina, sono dei grandi insegnamenti per noi, vero? Eh sì, certo. Assolutamente. Tenete duro la traduzione. Comunque, voi dovete pensare che questi cani che vi ho presentato sono dei cani assolutamente... Guardate che bel bacino ha dato a Marinella. Sì, è arrivato lì tranquillo. Guardate, è un canino che anche lui ha sofferto nella sua vita. Non si direbbe adesso perché è tutto contento. Guardate che, guardate che con questo sguardo dolce, guarda Marinella. E' vero che è lei che dà sempre da mangiare. E quindi è uno sguardo magari non proprio così disinteressato. Però, aiuta questo. Buonissima, Marinella. Devo dire che concludere con l'immagine di Simba, noi siamo tutti cresciuti con Lessi, il colli per eccellenza, sotto i fiocchi di neve a Bibiana, sarà una trasmissione memorabile. Sì, sì, sì. Lui poi è un cane memorabile. Lui è arrivato qui in Canile perché purtroppo la sua famiglia non c'è più. E quindi lui è qui con noi, è bravissimo, sa tutto, è sempre stato in una casa, sa andare a passeggio, sa stare con gli altri, è solo anziano. Quindi anche lui rientra nel progetto Adotta un nonno, anche lui dovrebbe avere sui 10-11 anni, dovrei guardare la data di nascita. Qualcuno di più, direi? No, no, no. No, no, ma la vita che ha fatto questo ha un vissuto non così facile. Adesso voi lo vedete bello, il pelo pulito, quando è arrivato qui era in condizioni non troppo belle, anche perché chi lo teneva non era più in grado. E quindi il cane viveva praticamente su un balcone, sporcava sul balcone, con tutta la gioia dei condomini, non vi dico le grane che c'erano in quel condominio e lui logicamente ne portava le conseguenze. E' brutto dirlo, però questo cane è entrato in paradiso nel momento in cui è entrato in canina. Ha cambiato vita, lui in pratica ha trovato la sua casa nel rifugio di Bibiana. Lui ha trovato una sua dimensione qui, perché malgratosi anziano lui è in un box riscaldato e quindi insomma un cane con questo pelo, il box riscaldato va bene. Poi lo portiamo costantemente a passeggio, perché tutti ormai lo conoscono e vengono qui, porto a passeggio Simba e lui tutto contento di andare a passeggio. E quindi è tutto il giorno in giro, poi mangia bene, mangia sempre a tempo e ora, non ha patologie particolari, ha soltanto un'ernia inguinale che è saltata fuori adesso, ma proviamo a ridurgliela. Bene, dall'RSA in proprio canina a questo punto di Bibiana vi abbiamo trasmesso ben quattro storie, quattro cani che meritano, meriterebbero assolutamente di trascorrere con voi in una casa tra virgolette gli ultimi anni della loro vita. A questo punto io, Marinella, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi. Grazie, l'adotto a un nonno, una campagna che si ripete, una campagna che dà risultati. Sì, diciamo che a volte dobbiamo un po' lottare con le persone perché non tutti i nonni sono adottabili e per questo che vi ho detto in trasmissione abbiamo preparato questi cani per l'adozione perché purtroppo non tutti i nonni sono ancora in grado di cambiare la loro situazione. Traduco, se volete affrontare un'adozione un po' più complessa di quella che vi abbiamo presentato in trasmissione ci sono e c'è nella possibilità, fatevi sotto, suonate il campanello, telefonate e tutto e perché non affiancarti in queste azioni di recupero. Non sono tanto recupero perché sono dei cani che sono recuperati però non tutti hanno la capacità mentale per cambiare la loro situazione. Cioè adesso loro hanno trovato una loro nicchia in cui stare. Poi il cane anziano diventa molto abitudinario per cui ha una routine. Carlo, mia professoressa, è suonata la campanella, dobbiamo chiudere, ci vedremo al prossimo anno. Allora venite a trovare Simba, portarlo anche almeno a passeggio. Grazie, grazie per quello che fate. Simba, caro, ciao, grazie a tutti voi, alla prossima. Con il canile di Rifugio di Bibiana salteremo e passeremo al prossimo anno ma vi attendiamo. Grazie per l'attenzione e buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora un grazie di cuore ai sostenitori nazionali del nostro programma. Codecray Ovest, Deutsche Bank Easy nelle sedi di Milano Torino Cuneo, Autostandard concessore DR Evo di Torino, AIAV Associazione Italiana Agenti di Viaggio, la geleria Ciaudano di Chieri e Monte Carlo, L'Automobile Club Torino che ci pubblica su acitorino.it